La roba è, pensi di riuscire a scavallare la voletta. Adesso vediamo. Sì, ci sono riuscito. Ma a quanti metri giù sta il bambino? Quando gli arriva il microfono capiamo quanto cavo ci ha servito. Ma non arriva mai? Ecco, il microfono non scende più. Dovremmo esserci. Vedi quanto era avanzo. Allora, a che profondità sta, Fredo? Io misura da braccio. Difficile essere precisi. Il cavo dovrebbe essere 36 metri. 36 metri sotto terra? Collegato, ci posso parlare? Sì. Grazie.